Nonostante la pioggia battente, i lavoratori Semat che aderiscono alla Wilma di Tanat hanno tenuto ugualmente un presidio davanti alla direzione di Acciaierie d'Italia. I 243 dipendenti della ditta dell'indotto Exilva non hanno ricevuto, nonostante le rassicurazioni avute, la mensilità di febbraio e marzo per i ritardi nei pagamenti di acciaierie. Molti di loro si trovano in situazioni di reale difficoltà, ma la perseveranza sembrerebbe essere stata premiata, uno spiraglio sembra aprirsi. Semat ha comunicato il pagamento dello stipendio di febbraio entro il 26 aprile e quello di marzo entro l'inizio di maggio, subito dopo la fatturazione da parte di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Stamane c'è arrivata una comunicazione che a breve avvieranno un bonifico, però chiaramente siccome non sappiamo quant'è l'importo che vada a recuperare delle somme retrate, anche perché chiaramente i lavoratori sono stressati, non ce la fanno più, sono indebitati, capite bene due mesi, due stipendi in arretrato, la situazione è che non hanno una certezza sul futuro, è chiaro che diventa complicato andare avanti in questo contesto. C'è gente che ha perso casa, c'è gente che gli hanno tagliato la luce, c'è gente che gli hanno tagliato il gas, capite bene che situazione drammatica stanno questi lavoratori, è una sopravvivenza, specialmente questi lavoratori che sono i lavoratori più in difficoltà.